Ciao Ciao ragazzi Ciao Simo Allora Hai trovato il coso della tua partenza? Cosa da la tua partenza? Vida Ciao Buonasera La vita moderatore attiva Ah la lei la moderatore? No io Perfetto Perfetto Noi ragazzi siamo sul canale di FaiFaiTarvernHouse Con un bel gioco da tavolo Molto strategico Molto di culto Per alcuni una religione Tecca facevi tu? No Molto bene Allora Il gioco che intavoliamo oggi È buono Siamo calmi che dopo facciamo È buono Dopo giochiamo Il gioco che intavoliamo oggi è Armata Rigoli Esatto Ok Con Con l'espansione di Resurrection E l'altra espansione delle carte Che ne parliamo dopo? Resurrection ha in più Sobra Con le tre verdini che poi diventeranno Perfetto I nostri nemici I pali L'hanno giocato a Tornelli Sono due Uno un po' più forte E uno più forte Ma Da non rinversi sopra Esatto I nostri protagonisti Sono Cosa è statuina qui? Le statuine dette tra virgolette Sono i cinque membri del gruppo Detail Powerwall Che sono divisi in praticamente Cattierista, due chitarristi, cantante e batterista Ognuno ha delle proprie abilità C'è chi picca più forte C'è chi cura di più C'è chi gestisce il branco Quindi Il leader Diciamo Il leader In base alle carte che voi scegliete Che hanno i movimenti dell'abilità e dei poteri attacco Si inizierà la partita e ci andrà praticamente Riascitta molto tutto Lupi contro vampiri E cobra Il gioco è questo Diciamo che è un E' un JRPG su Un scatola Esatto E per non Stigiarci Queste Sono le scatolonte Con l'espansione E poi Al contrario E Marco vi farà vedere quella delle carte Aggiunti Pensa qui è il suo vecchio Presfession Grazie In inglese marchionico Con l'espansione delle carte Aggiuntive Che era Killers of the Come che era? Killers with the cross E' questa Che sono le istruzioni delle carte nuove Che dopo mostreremo In caso ripetiamo Perchè Il mazzo delle carte Abilità Che si pesca durante il gioco E' questo Certo Stato classificato per Misura di sicurezza No Stato classificano Perchè sono carte veramente Anche Anche Sono fatte bene Anche frasi Praticamente Il gioco ovviamente E' sostituito Da Che è giusto Ricordarcelo Che Per Non dimenticarci Abbiamo comunque il regolamento Che Tra tutti in 4 o 5 lingue Quindi Facile Perfetto Da capire Che ci sono dei dubbi E' l'unica cosa che dobbiamo dire Che è la Roccaforte Che è stata messa giù a cacchio Ma è la Roccaforte L'antica fortessa di Tismana Che è stata appunto da queste creature Che i primori che provengono dalla Malacchia Malacchia Si Avete un bambino Si Esatto Devono dare la caccia E portare Credo Devono mandare Il costo di bambino Solo che però Noi siamo anche Molto arroganti Abbiamo voluto Metterci dentro Anche l'altra espansione Del Cobra King E' l'espansione Delle carte aggiuntive Di combattimento Che Oltretutto Questa Esatto Il problema In questa aggiunta Di Killers of the Cross Come Il titolo di una canzone famosa Dei Powerwall Fa questo Voi non capireste Adesso perché Questo qui ho lo Strigoi Ma lo Strigoi In Killers of the Ultimate Cross E' stato potenziato Quindi Anche quello base E' quello E' quello Che ti dice Passiamo Si Sto provando Devo inviare un attimo A Tu Stiamo a sentire i colleghi Online Comunque Il Strigoi in questa espansione E' stato potenziati E Che fanno Come si può dire In modo Fanno danni un po' più Cattivi Fanno Che fanno dei danni Un po' alle fatti Esatto Non dirlo Perché è meglio Perché siamo italiani Seconda cosa Come appena ha detto Marco Le carte Quelle bonus Quelle A potenziamento Sono tutte E anche le carte Dei giocatori Abbiamo tutti Un riferimento Alle canzoni dei Power collegate A Dei loro album Abbiamo Lo scopo principale In questo gioco E' che per poter Attaccare Amici Bisogna sempre avere Tre punti sangue Sull'altare Nel paradiso Mentre Se avrete Tre punti sangue Essendo noi Che giochiamo in tre Nell'inferno Avete perso il gioco Cioè ragazzi Diciamo che è molto facile avere Più sull'inferno Che sul paradiso Anche se si gioca In quattro In cinque I tre punti sangue Sull'inferno Almeno che Voi non volete Facilitarlo E fare quattro punti Voi E tre Sulla Inferno Cosa Che dobbiamo dire Abbiamo giocato Cinco sei volte Si Andate molto male Andate malissimo Abbiamo un po' Cercato di recuperare Qualche regola Su qualche gameplay Le botte che si prendono E' normale Gli attacchi Che si prendono Parecchi E' molto cooperativo E' molta attenzione Anche le carte Che si prendono Meno si parla Non si può suggerire La carta Che valore ha D'iniziativa Perché Parte con L'iniziativa più bassa Quindi qua sopra c'è un numero Che va da uno Adesso a No ma va da Tipo da otto Fino a Trenta Ah no Cinquanta Sette Sessanta Ok Con l'iniziativa più bassa parte Ma di solito L'iniziativa più bassa Non direi anche Un valore D'attacco della carta più basso Però con l'abilità Magari ha dei movimenti in più Esatto La differenza di questo gioco Rispetto adesso il Raction E' che la plancia E' la più piccola Non ci sono le torri Non ci sono Il passaporto Non che i passaggi segreti I passaggi segreti Ci hanno spiegato I datori del gioco Per aver capito bene Li possiamo prendere Solo noi Sulla plancia Non tramite la torre Esatto La torre è così Qua sopra ci sono i segni Con delle lettere che poi spieghiamo cosa servono anche le lettere Che sono quelle che fanno fare i movimenti agli strigoli E in caso al Pobra King e alle Ciccoli Poi Ci danno scappone anche a loro Molto probabilmente Non cerco a spiegarvi tutto Perché giocando Speriamo anche cosa andremo a fare Da più una spiegazione di regole E cerchiamoli da mezz'ora Giochiamo perché il gioco può essere lunghi Come Pompissimo Esatto Lo scopo è Principalmente come i vari giochi Sol Così Bisogna livellare Teoricamente quando si livella Bisogna potenziarsi con più oggetti O più armi Che prenderemo in base ai vari combattimenti sulla plancia In modo da poter essere forti Per poter andare ad attaccare poi gli amici O per poterci difendere da eventuali ferite O danni che finiremo Infatti i vari mostri sulla plancia Che sono Dopo No Lo facciamo vedere dopo Lo cambi non lo sanno Allora Quelle sono state mischiate Ho trovato un colpo io Si In un altro colpettino Queste qua ti vede Sono sei carte Ok Questa cosa è un'arla fondamentale Sempre di gioco per noi Dopo le faremo vedere lo stesso Niente Seleccendiamo il nostro Pg Allora i personaggi Non cambiano Non hanno L'omino non è che è collegato perfettamente a una figura e dopo bisogna ricordarsi che per entrare nella fortezza bisogna metterle in scala le scale sono queste, sono l'entrata, è fondamentale per l'entrata perché servono anche per salvare le diesime con l'espansione bisogna metterle dove c'è il colloio sulla plancia, dopo faremo vedere bene la plancia io secco, mi sbatto un po' lontano, mi metto qua io prendo il tuo crocifisso, prendete il personaggio che mi piace prendo la bandiera e io il martellozzo, luco martello e si parte dalle porte ok adesso che abbiamo fatto questo, selezione delle classi, no prima selezione del personaggio va bene, io teoricamente saprei già ti prendere però faccio fare a loro che mi sicurano non è in senso figurato, non è in senso figurato, non è in senso figurato lui prende il fabbro, lui prende il fabbro, lui prende il fabbro, lui prende il fabbro, lui consiste in attacchi e in supporto diciamo, è un'abilità speciale per riprescare le carte oggetto che sono queste qua, in caso di utilizzo, venitore, tu selezione che fai? lo so, vieni qui, io se vuoi faccio il litico attilator attilator che sarebbe il render, no? il cantante il leader, il leader lui fa il leader e io allora devo scegliere fra i tre, il medico e due picchiatori però c'era uno dei picchiatori che mi ispirava di più e devo ricordare di quale era perché sinceramente non me lo ricordo di quale dei due era fenomenale in combattimento però ecco, può subire dei danni perché sono talmente forti che si fanno out però tutti questi personaggi, c'è una carta che è potenziata che oltre a fare il danno al mostro non tutti eh, mi sembra si, come si, ce l'hanno tutti comunque la facciamo vedere dopo bene, io ho scelto uno dei picchiatori che è uno dei due fratelli, giusto? se potrei... che è... ok, perfetto possiamo partire cerchiamo la carta esatto e adesso, quello con l'iniziativa più bassa che abbiamo detto partirà entrerà nella fortezza e incomincerà il suo viaggio verso la distruzione degli Trigoi gli Trigoi entreranno nel secondo tour il primo è libero il primo è libero per potenziarsi all'inizio ma di solito non ci riusciamo mai esatto perché? ve lo faremo a dire io sono pronto sono pronto lui non parla ma adesso deve parlare non parla puoi salutare se vuoi va bene così niente, io sono pronto allora ragazzi l'unica cosa che si può dire non mi occuro, non mi faccio è c'erò media o alta al massimo si può dire, rimedio io ma dicendo questa frase è sempre un boomerang esatto alti? non si io ho 8 11 9 bene quindi 8 9 faci te io ho 4 di passo 4 di attacco e ho l'abilità l'abilità esatto che mi permette adesso vi farò vedere cosa fa anche a farlo apposta io entro e nella mia plancia di gioco ho già un simbolino che è il simbolino di attacco giallo questo qua che è giallo che sono tra virgolette i cattivi quelli più facili da attaccare i cattivi base diciamo quelli con il simbolo che aveva fatto vedere lui prima grigli sono quelli che vanno un po' più forti che ti potrebbero mettere in difficoltà io quindi perco un simbolino guardo però diciamo una roba avendo il simbolo furtività prima ti fanno le abilità prima di ogni combattimento che è l'abilità sulla casa che è quella griglia la furtività ti permette di girare il simbolo il combattimento per vedere a cosa va incontro per scegliere se affrontarlo o lasciarlo lì sul campo per il prossimo avversario che dirà sulla determinata cadella corrispondente quindi io ho un attacco di 4 giro e perfetto ho preso il monaco perfetto utilissimo il monaco ha due vantaggi quindi può dire che sono riprendere dalla fila degli scatti tutte le carte che noi utilizziamo o questa che adesso la metterò negli scatti in questo turno se avevo preso il monaco per prendere in mano oppure mi dice cambia le pesca un mostro grigio perché fai trasformare il monaco in un mostro grigio attenzione che avremo delle carte di lì bonus no quelle lì che c'è dentro il monaco che diventerà un famiglio sarebbe lo scudo protettore perché i monaci dove si vuol dire nella leggenda qua di Powerwall sono i protettori dei luci e loro li utilizzano addirittura come scudi umani e quindi riparerebbe di tutto non li abbiamo mai beccati non li abbiamo mai usati infatti sono 20 tessere e io li ho beccato il monaco perfetto cosa fai? perchi la grigia? io teoricamente avrei un attacco di 4 potrei anche rischiarla ma potrei anche rischiarla di figliarmi già una ferita ebbè no perché tu se solo guardando devo guardare anche questa no? no no hai niente ma perché è questa? però così scelgo però il prossimo che va sulla galla la si becca a monaco il problema anzi non hai ragione potrei guardarlo potrei guardarlo ma se io la guardo comunque il prossimo che va sul grigio deve combattere per il motore quindi giriamo se è livelli della mia portata lo combatto non lo combatto per niente perché ha un 6 perfetto si questo questo vampiro giunerebbe se lo sconfissessimo un punto sangue e una carta bonus che non sarebbe stato male se il valore di combattimento è pari o superiore il combattimento si ritiene vinto quello lo rimette dentro magari li teniamo in parte se l'ho lì le scatoline se le vuoi evitare di ripescarlo no beh non è esatto comunque io questo mi rifiuto di combattere perché è solo una pippa lo lascio qui lo metto qui mettiamolo in parte così mi ricordo che il prossimo che va sul grigio deve combattere questo mostro ricordiamoci sole secca che è un 6 pareggiate lo mettiamo ok fatto il combattimento risolto o non risolto si mette sotto il meno perché si copre e non ci si può ritornare sopra perché sarebbe bello andare avanti di un passo e ritornare indietro se avessi fatto il combattimento e l'avrei risolto mi prendevo essendo una carta di colore giallo la carta di colore giallo no se fosse stato un combattimento giallo se fosse stato grigio l'avrei presa grigia e queste carte sono identiche alle nostre vanno su dei dupi e praticamente ci dicono voi prendete anche le mazzate ma vi diamo anche delle carte che vi fanno guadagnare qualcosa così naturalmente vanno solamente una ciascuna così come queste carte qua che ti faranno pigliare un sacco di mazzate vanno le guadagni ma ti daranno altrettanti punti comunque ragazzi abbiamo fatto essere giocati un fortificato per dirla per un cantore la cosa fondamentale da tenere conto della carta son of the wolf è che c'è una D nel libro la lettera D servirà dopo perchè farà muovere pescando dal sacchetto il cattivo lo strigori a strigori o il cova king o entrambi gli strigori perchè nell'aggiunta di resurrection c'è il doppio testellino che muoverà entrambi i due potenziati poi grazie a killer ci siamo dimenticati di dire come funziona la resurrection la resurrection funziona come un rituale il rituale ha questa plancia che ha uno due tre quattro cinque movimenti per essere compiuto sei se si vuole fare un'aggiunta che adesso noi decidiamo sarebbe la partina della partita e fare un passo in più nel rituale allungarlo ottenerlo normale ovviamente ad allungarlo si muovono per voi in più esatto come si muove quel rituale lì semplicemente se si pesca la tessera del cobra o si pigliano delle ferite che avremo lì dentro col simbolo o dei bonus che hanno il cibolo della freccia col movimento del cobra si qual è dentro questo qua è la mia ferita esatto nelle ferite avremo un cibolino che ci visce il cobra al primo punto al primo movimento al primo movimento compare il cobra finito la plancia quando fai il cibolo a muoversi ovviamente quella stessa eravina lì hanno dei tutti i malus che sono prendere già una ferita sangue muovere gli strigoi e fare già trasformare le vergini in preparate le vergini in preparate si perché dopo quando lui si evolve entra dentro nel rituale finito gli strigoi che ne vanno perché hanno fatto il loro compito hanno evocato il assoluto succubi quando va qua che succubi si esatto diventano succubi perché ci sono due fasi delle vergini non c'è la fase vergine innocente innocente e poi preparata e poi preparata preparata che si trasformano in caso del momento di strigoi sulle loro torri ricordiamo che le vergini valora siano innocenti o preparate nel percorso in cui le stiamo portando fuori le possiamo salvare le possiamo salvare se il rituale cade prima che noi riusciamo a portarle fuori dalla fortezza rientrano tutte e si trasformano quindi dobbiamo essere veloci a salvarle esatto perché? perché queste vergini che diventeranno succubi avranno anche loro degli attacchi e quindi se non le portiamo fuori tutte e tre saremo quattro contro tre però vedremo quindi io ho fatto la mia azione il primo movimento non c'è la mia carta da scartare non ho fatto niente ok i movimenti è fino a quattro non di quattro puoi fare o da uno a quattro cosa importantissima se si finisce e si passa sopra una casella combattimento il movimento termine se siamo 5 di 2 di 3 si fa asciutto per forza tocca ma avanti torlinelli presentati tranquillo attore gioca sei traduttito? 1 2 3 quando vado sulla casella attore 1 2 3 2 3 e 4 quindi non puoi fare niente perchè la carta è un po' bassa ma ci può stare tranquillo l'ho visto neanche io finché non ci ho fatto caso niente lui avrebbe le mie stesse abilità quindi non la usa perchè gli manca una cosa e quindi tocca al maestro per i capelli fare la tua che li hai? che ce li hai i capelli? come adesso o fermate nella chat 1 2 e 3 tu avresti un movimento di 4 un movimento di 4 ma un altro non potrebbe fare 4 potrebbe fare 3 perchè su un po' bassa naturalmente la mia carta mostra anche la abilità furtività quindi pescando qua dentro prego Dio prego il buon paolo loro mi ho pescato un muoto debole naturalmente usando furtività mi ho pescato 5 pescavolo lui pure rimarrà insieme all'altro per il prossimo combattimento per la furtività e naturalmente tramitava tutti rompire nella forza perfetto quindi finito il turno copri col torbino copri col torbino e gli strigori entrano sulle plancettine muovono col timbolo della mano rossa passi la cantatura qua qua come ti sei? si guardiamo adesso questi sono in gioco questo che vedrete qui potrebbe già attaccare il powerwolf di Marco si muove si muove si muoverà sicuramente se passa attraverso non viene colpito perchè questi qua si teletrasportano però se beccano la tessera scale oltre a distruggere la distruggono se non trovano tessere scale che è vuoto rimbalzano e ritornano indietro nella giata forma centrale più libera non è che volano esatto però se stancano due tre le uscite perdiamo un punto certo ricordiamoci anche questa giusta questo qua è giallo giusto? si è il 5 è giallo gioco basso gioco basso gioco basso sai che allora la patinetta parte veramente male perchè io qua per palo devo andare di nuovo a un 5 abbiamo preso un xp on e il rischio è che io posso fare una giocata brutta tanto se voglio combattere devo per forza la mia è basta come giocata brutta è una giocata brutta mamma mia che l'ho abbagliato i passaggi segreti che trovate nelle plance è dal secondo turno ma non è prima lì le scale sull'ete ancora va bene paio una via di mezzo oh beh non agitarti è uno stile niente che nessuno ti giudica anzi fategli tanto di cappello che si sta improvvisando in un gioco che è altamente difficile esatto l'ho fatto fatica capire da noi dopo aver letto dici volte le istruzioni più avendo chiesto più avendo chiesto più avendo chiesto anche il gameplay e più avendo chiesto anche il creatore che non è io ecco il marco è molto lento negli occhi devo valutare delle azioni perchè ogni volta che la c'è un'azione succede sempre al finimondo all'orologio ok ok va bene è molto timido per lui come quando vedrà non possiamo cruzarle scale vero? no adesso possiamo cruzarle no in realtà mi sta attento basta giriamo 23 4 5 7 parto io la mia carta ci ha l'abilità naturalmente sputtava con lo scudo la carta con lo scudo la puoi bruciare per parte all'attacco lupo e il lupo che salta è balzo che ti fa saltare nella tua pedana giustamente lo io usavo per fare una giocata che usando balzo come abilità li metto sulla scala infatti ricordati però che non ti può fare andare sulla pedella in contro no ma non è che balzi per andare in combattimento balzi solo nella stanza ma non c'è il combattimento però puoi metterti in combattimento io vado sulle scale e ho ancora due passi quindi io esco e vado dove scendono le scale posso andare qua perchè sennò prendo i schiaffoni vado qui allora è 1 e 2 adesso prendo sulle scale basta? si ah ecco muova la c pescando la lettera c pescherà dal tacchetto magico la lettera c qua tutto inqualge i due strigori esatto e non iniziamo già col botto iniziamo già col botto sappiamo già come andrà a finire la partita anche al video e va molto brevemente oh dai quello piccolo che è questo qui è la lettera? si perfetto vado a visto drittente vede qualcuno? non vede nessuno non vede nessuno fortunatamente fortunatamente non tanto perchè senza l'espansione se i strigori nei loro due movimenti non attaccano nessuno fanno un terzo movimento e colpiscono tutti i strigori presenti nella stanza quindi potete difendere però qua invece se questi due si muovono e non colpiscono nessuno entra al cobra e si muove perchè qua è ancora più scattivo e il terzo movimento che lo fanno i strigori non fanno muovere al cobra per avanzare gli abituati esatto quindi prendiamo anche il danno nell'aria e mettiamo dentro o no? non si muove il cobra si muove il cobra va bene perfetto quindi il tuo spazzo tocca a te questo lo mettiamo qua in parte che vuol dire tutto pescato qua lo tocca per l'incontro no no il combattere contro questo è rigido no bene prendi un punto sangue prendi un punto sangue no prendi un punto sangue un punto per l'inita scusa aspetta 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 siccome è modalità cooperativa torno ogni tanto perde via puoi evitare di andare via solo due passi puoi anche spostarsi fare oh e due perchè perchè mi facciamo fare questo ha scelto una carta con attacco 3 ma non si ricordava che c'è ancora questo qui che è attacco 5 serve a prescindere si può parare però frecca una carta a scudo al vestire anche la modalità spiega il puntone cos'è? valto se lo vedo i doi o tante che permettono la vista direzza a quello per voi siamo saluti aspetta si ok lettera c eschi uo c e lui molto probabilmente in vista al magia farà muovere quello piccolo e un punto ferito un punto ferito in aggiunta al suo tacco però praticamente fa oltre che avere una se lui ci colpisce ci farebbe una ferita ci sono anche le carte di bastare che hanno anche un più uno quindi diventa due mi ha potuto spuntare lo scudo però si attacca ma non si sta attaccando mentre la c ritorna qui ma qua non vede nessuno perfetto tocca a me ricordiamoci che io ho un movimento di 3 giusto? però uno mi tocca per forza attaccare quello di giallo esatto e a 5 si a 5 io ho scelto una carta con attacco 6 perfetto però il problema è che essendo una carta che ha un attacco 6 ed è talmente forte che oltre a fare il danno al mostro me lo prendo anch'io quindi mi figlio una ferita e le ferite come potrete notare avranno dietro dei simboli che possono privarci di attacchi di movimenti doppie ferite o questo che piegherai tu ah questo ti fa scattare una carta dalla tua è uno shock diciamo l'effetto istantaneo esatto praticamente scattiamo una qualsiasi carta dalla propria mano dalla propria mano azione o ricompensa che sia e la mettiamo tra le carte giocate quindi tu cerca attacchi questo qui da 5 giusto? si lo batti? si ok perfetto fermo mi sono dimenticato di fare una cosa e spostare qua io avrei l'abilità di girare una pedana la pedana si può girare per evitare di far spostare magari io ho la lettera E vedo dove può andare con la E qua si sarebbe spostato qui quindi lo potrei lasciare ma questo se io non lo muovo si sposta qui e potrete attaccare Tone quindi ricordiamo che vanno fatti prima io adesso ve lo faccio vedere come funziona lui ricordiamo che lo strigoli è che si sposta dove ci sono i corridoi qua si sposta a prescindere perché ha un teletrasporto non c'entra se ci sono i corridoi adiacenti ci entrano solo per colpire l'attacco quindi io avendo una lettera E che punterebbe in questa direzione che da questa direzione mi andrebbe a colpire il Powerwall di girare in questo caso muovi questa cosa si però per farla più semplice chiudiamo questa se io la mettessi qua affaccherei la scala e non va bene se io la mettessi qua lo metterei ben meglio perché se lo sposto addirittura sulla torre rischio già di far girare la sucpe esatto per l'innocente io lo metterei qui e va di là quindi sempre che ciò che pesco sia lui esatto però questo mi va bene perchè no le cavolate le cavolate perchè questo va bene attaccare il betone comunque sediamo è pronto? va bene perfetto niente grande l'hai tirato questo qua? si si facciamoci i complimenti perfetto ho già capito da un attimo carta ecco ho deciso questo la tessera gialla prendo la mia prima e unica carta gialla che ha dei potenziali che avete per voi e prendo ancora la carta oggetto che la metto nel mio mazzo e prendo la carta prendo una carta ricompensa che avranno delle ricompense che sia un'arma un'arma che posso continuare a usare prendere dagli scatti oppure quella con il simbolo con la carta spezzata si usa una volta e non si usano più allora la puoi usare normalmente che ti da un più due di attacco questa e tu la metti negli scatti usi con poca selvaggia usi più tre cambi di corpo che non è con un altro powerwork e poi la bottiglia del tutto e non la siamo più questa tenetà sempre coperta sul tavolo facendoci qualcosa che le possano vedere i giocatori per essere aiutati ti ho pescato ho preso la mano per un motivo perchè il cobra entra in gioco e quindi si muove sulla prima casella verde perfetto il cobra è in gioco ok questo adesso momentaneamente lo teniamo qua sappiamo che non si muove più perchè ce n'è solo uno esatto è il mio terzo turno? si ok non è successo niente perchè uno strigoi non si è mosso però è entrato il cobra e quindi fermo? è fermo perchè il movimento dello strigoi non è stato fatto la domanda che mi viene è non essendosi mosso lo strigoi il cobra non si muove perchè è entrato lui in gioco no si muove perchè abbiamo pescato il ok perchè uno ci chiede ma avete detto che se non fanno i movimenti e non costituono i due è un movimento aggiuntivo allora la nuova si è giuro in teoria e quindi abbiamo già perso il nostro punto sangue che va sull'inferno perchè le regole sono queste scritte queste non salvano perchè teoricamente se lui avesse pescato l'altro strigoi si sarebbe comunque mosso si sarebbe mosso e avrebbe fatto danno e andava in quelle lettere si sarebbe mosso non è successo niente avremmo pescato dopo il cobra allora il movimento è stato fatto ma se avessimo pescato il nuovo nostro rigoi non ci fosse fatto nessun attacco sarebbe entrato il cobra niente finito anche questo bellissimo turno perfetto non abbiamo solo non abbiamo niente ricordiamoci di tappare il combattimento adesso caro Alessio ah ecco i tombini sono sei dopo che vedi sei tombini devi prendere dalla planta e spostare sul loro il combattimento quello più noi siamo dicendo il primo che abbiamo fatto lo spostiamo più lontano verso Are se qualcuno vuoi tornare lì ti ricordo che è tutto quello è il grigio questo e vai sul grigio un 6 questo è libero capito? l'ho già ucciso io quindi lo peschi da lì ok va a sorte hai già pescato la carta? hai già scelto cosa fare? aspetta ce l'ho ce l'ho in mano anch'io e poi la fai di tutta effetta? si è quella con l'effetto spontaneo che ho dovuto scartare una carta però l'ho disegnata si si hai ragione partiamo perché al terzo punto ferita di uno strigoi si perde un punto ferito io scelto non lo scartare la carta tra l'altro la parmina è media è già basta media scarto questo perché è pezzo istantaneo presenti la carta di movimento? un po' di problema il movimento in questo gioco ci ci può guardare delle ferite ma c'è un grande ma avevo sempre sbagliato esatto siamo pronti? non girate pure 16 21 26 inizio io parte il cavolo ci spiega sempre la carta prima l'abilità dell'abilità se lo spiega la testa se lo spiega la testa e lo spiega la testa se lui le ha studiato qui spiega la testa spiega la testa ok ho il branco che mi permette di aggiungere un altro puzzle in un'altra stanza dell'effetto dove c'è il puzzle esatto questa qui è l'abilità branco se lui volesse farla perché vuole venire a dare una mano per sconfittere lo strigoi ma questo è un pazzo che va molto più avanti se lo faremo o semplicemente perché qui sono tappati i combattimenti e vuole andare in un'altra stanza poverissimo farlo però ha due liberi più uno giallo o se può andare in un'altra stanza dove c'è il power non in un'altra stanza vuota perché se no sarebbe troppo bello quindi adesso Ale valuta bene cosa fare a cinza di patto uno due tre combatto perfetto pescatola tre pareggio vinco ricompensa l'ultimo allora il tono ha battuto il mosto questo mosto ha un icona gialla che è la ricompensa le ricompense sono un po' come le abilità aggiuntive con dei potenziamenti la tua pescatola la pepia che ce n'avevi troppo sfida sono un po' come crisantemi questo sarebbe uno scudo di di ferita velenosa esatto il tono ha pescato uno scudo da ferita velenosa in caso venisse attaccato dal cobra king e o dai suoi serpenti se prende una ferita velenosa la cura solo con lo scudo velenosa esatto non vale per le ferite normali perché la ferita velenosa è questa e non ha nessun effetto aggiuntivo se non arriva nerti finchè non te la curi esatto e quindi il tono ce l'ha qua tu hai fatto quello buona deve pescare chiudiamo questo qua va sempre a dimenticarci intanto ma non è un problema che vi ricordate di tapparlo lui ha fatto adesso muove in b muove in b questa cosa teoricamente sarebbe da rimetterli dentro teoricamente però noi siamo un po' per farvi allontare un po' la partita almeno per farvi vedere l'entrata del cobra king si spera di nuovo questa è del quel giocativo più maestro il maestro Tregoli in che lettera si muove? la lettera B perfetto spacca la pedale appena appena spaccato la scala e se la voglia davvero non fa niente ok avrebbe un più uno di attacco perfetto abbiamo già disintegrato un'uscita perfetto un'uscita si rimetterà appena che la nuova cobra entra in gioco perchè vedrete che si gireranno due planche di gioco esatto e sarà un bel problemone se con gli Tregoli senza al cobra si spaccano tutte le scale dopo si spaccano anche le pedale quando muore uno Tregoli però si spaccano le scale e si perde un punto sangue esatto l'hai perso il punto sangue no perchè si era spaccato ok però se ne avrebbe finito spiegati quella lì della vettura della modalità singola modalità singola appena lo Tregoli uno degli due Tregoli viene acchillato che è ergo tecnico lo Tregoli rimasto si potenzia si incazza alla grande cosa fa? nel suo movimento partendo dalla pedale centrale con la carta pescata che è cosa finita dalla pedale centrale poco base tirano via queste perchè ne disintegra e se ha un power wall e qua sopra prende un punto sangue perde 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 un punto sangue che non ha valto esatto ma la ruffa è perchè ci si sposta sopra? si no perchè va qua in mezzo partendo dalla pedale centrale spacca una di queste con la lettera dovremmo ricordarselo bene la parte con il centro DLC comunque dopo la teglia un bene a fine a fine esatto se faccio una che non sbagliamo mai esatto tocca lui la faccio il 16 il 16 il 26 tocca a me io ho letto faccio come secca mettere un bel una bella ferita anch'io però posso muovere una pedana lo mettiamo dentro solo un filo che si può farci del male esatto secca mette solo di su proprio lo dito che fa male sbagliarti vale la ferita di coro allora io ce la metterai devo girare una pedana vediamo che sono quei passatori dai qua va bene no non ti vede non ti vede c'è il muro della pedana ah ok lei è qua mi vedrebbe a me quindi non mi veda perchè questa pedana ha solo tre corridoi mi attaccherebbe dalla lettera qua ti faccio un esempio qua non c'è un corridoio e non mi può beccare ecco niente tocca a me perchè c'è il muro esatto tocca a me mi muovo di 5 passi come mi indica la carta quindi 1 2 3 combatto un vostro giallo adesso solda colgo perchè no praticamente sono quelli con i valori più bassi quelli gialli effetto 5 questo è un serpentello il serpentello è bastardo però si da anche due potenziamenti mi da 1 la ricompensa che pesco adesso ho 1 più 3 per il prossimo attacco in caso di utilizzo della ricompensa viene rimetta dentro i tesori i più 3 sono da sono i più 3 anche la distanza perchè gli attacchi con la foga le puoi dare la distanza perchè gli atti li inghigna facciamo sugli oggetti come questa e la foga ma essendo che io questo serpentello faccio anche l'arma riga io pesco l'arma riga tac no uno scudo se lo voglio continuare a utilizzare o lanciando lo scudo è un più 3 di attacco però a distanza a distanza esatto e ce l'ho qua infatti a me però il nostro caro Marco non si ricorda che essendo stato un cattivo Powerwall un cattivo si piglia una punta ferita si lo pesco naturalmente scomplitto 1 giallo aspettate per me mi dobbiamo prenderci la carta prima che ho compito quello giallo scomplitto perfetto bravo ecco ricordatevelo perchè queste cose mi danno una mano se le dimenticate non si apri ecco quelle gialle meno le possiamo più pescare fate 3 facciamo la bolla tutte le bianche allora prendo il punto ferito adesso pescherò il più 2 siamo andati no non posso usare la Forgia giustamente in una carta più pescata ho detto la Forgia questa abilità qua Forgia in poche parole ti fa riposcare una carta degli scarti ma solamente di queste qua grighe e giustamente io adesso siamo tutti curiosi di vedere il fondo è il cobra se tu non lo hai adesso dentro perchè dovrà fare una grande giocata no dai si muove solo piccolo è uscito quello giocchio però si muove i miei 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 questo piccolo non vede nessuno primo movimento nessun attacco secondo movimento nessun attacco non vede nessun attacco non vede nessun attacco si ecco l'ha vissuto la scala è vero si frega però la scala vale come un attacco no no perfetto deve attaccare se no se adesso muoviamo uno strigo e non attaccare nessuno il cobra fa un pass almeno che non pesco il cobra e si muove in questo caso perché è luce se io pesco già voglio già farmi del male io allora ho un 5 faccio 1 2 3 e 4 ho un 4 di attacco quello grigio quello grigio è un 6 io infatti uso la mia abilità di un più due normale la metto negli scarti la metto negli scarti 4 più due 6 pari ci guadagniamo un bel punto sangue sull'altare perfetto naturalmente dall'inferno si tirano mai via i punti sangue invece dal paradiso posso andare in vero possiamo anche acquistarne 25 ma i primi 3 che vanno giù è finita la partita questa ricordatevi una cosa fondamentale adesso che abbiamo un punto sangue eh non c'è la carta grigio giusto? c'erò già adesso che abbiamo un punto sangue si può andare a salvare le verdi senza un punto sangue le verdi non si possono salvare bisogna avere almeno una ferita sangue sull'altare si non voglio fare la battuta perchè mai il video non si conviene ho di nuovo questo simbolo qua che vi scriveremo è l'attivazione dei portali in poche parole tira via tutti i tombini dai combattimenti e in più ci sono alcune pedale speciali che hanno sotto diciamo sotto una vergine una di queste travergine c'è una carta ricompensa la pesca gratuita e si mette questa pedale qua viola però se l'unico modo per tirarla via esatto che ti dà via anche i danni i tombini però io ho preso anche la carta grigia perchè ho il conflitto molto grigio io sono a posto e la metto e quindi secca per una cosa io devo tappare il mio perché ci sono dimenticato io solo rimuovo un altro bambu che devi tappare anche tu no che potevo ruotare e fare branco però vabbè giustamente non l'abbiamo fatto il tuo e il tuo deve tappare la sua tranquillo il tuo l'abbiamo tappata a parte che ruotare è adesso che si muove pesca perchè se questo andava in esse si tornava in mezzo ma quello la se si muove faranno e forse anche meglio se no faranno a me esatto perfetto quello piccolo e va in esse e ritorna qua attaccatone perfetto attaccatone con un più uno e lo scudo per caso con un più uno quindi dovessi avere due scudi dovessi avere due scudi tra due scudi vuol dire domanda dov'è la carta che hai giocato? questa ecco non si mette mai via finchè non è finito il turno perchè potessi avere uno scudo lui qua non ce l'ha guarda nelle sue carte rimaste se c'ha uno scudo ovviamente più scudi usa più quelle carte lì non le ha nel turno se non finisce tutte le carte non le puoi pescare salvo il monaco quindi deve pensare bene se ti ha uno punto ferita ti ha una carta piarsene due o non pigli altri ecco hanno commentato se c'è 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 per ricordare che questo ha attaccato un gettone ferita dal nostro igoi che è un You Can Bleed che è questa qua e la prende il mitico colinero. Però il tono essendo che ha anche parato la carta prende anche questa che è quella nuova, ne prende due poi ci sono alcune carte speciali come questa che la farà vedere in caso dove la utilizza sono queste che hanno su, come vi abbiamo detto, prende le mazzate ma prende anche dei super bonus quindi ne guadagna due. Poi qui solamente se tu fai perdere a un tuo compagno e un powerwolf che ha detto. Esatto. Perfetto. Ricordatevi che tu fai salvare i vergini attenzione che c'è anche la carta lì che se usi una... che se è l'ultima azione di un powerwolf fa muoverlo sui voi, attacca quindi determina la terza ferita da un proprio compagno e prende quella carta lì è questa, esatto. E poi c'è quello che ha meno carattere di compensa che è questa appena un altro, è anche quella lì in caso di parità la carta andrà al giocatore col valore iniziativa più basso in quella carta la carta può essere utilizzata normalmente come l'abilità di paraggio e perchè ha parato un colpo e perchè ha subito il danno cioè ha già due belle carte diciamoci il disturbo è finito esatto se ne sceglie un altro ora scarsa la carta usata un macello forte puoi fare la qui se ne ve la metto qua ecco più di carta ricompensa io ne ho due più di carta ricompensa e ne ho già due hai capito? se ne prendo ancora una allora quello che era di meno che sarebbe? sicura in caso di parità la carta andrà al giocatore col valore iniziativa più basso in quell'assalto perfetto la carta c'è scritto che può essere utilizzata normalmente come l'abilità di paraggio oppure in alternativa per pescare una carta ricompensa io ti non ricordo ma però vediamo che ho fatto praticamente dal gioco io ragazzi la gioco alta medio alta pronti? ho fatto la prontata tantissima prontata perfetto ci sono via 33 28 30 parto io sono quello più basso giustamente 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 per la carta che mi fa una ferita ma perchè mi serve 1 2 3 4 bene adesso questo viene con me se non perdo è il combattimento è il combattimento giallo 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 12 11 11 11 13 12 un punto sangue e poi esco la carta ricompensa in generale però è potente perchè sono due anni poi stai morto male e poi esco la carta ridi ok ma ti vedi la ferita magari mettilo fuori che sennò lo riperchiamo mettiamoli fuori quindi li puoi riperchare non posso usare lo scudo in cambio di necessità perfetto se qualcuno vuole a comprare quella mia stanza farà il mio culo ti arrangi e adesso muovi il suo mitico cobra cosa facciamo? un giro in più nemmeno la bianetta in sua partita io farei visto che siamo troncini giù e mezzo giù e mezzo si vuole quello piccolo che è la lettera F non salvo perchè io sono dietro il muro ricordiamo che siamo due punti di salvo sul paradiso il primo punto sangue che perdiamo fa giù e io adesso mi prendo prendo la mia vergine dove aveva messo la vergine qua ce l'ho io e devo ricordarmi salvarla tocca a terra io posso far ruotare la piattaforma e la metterai devi guardare quello in e dove va allora questo in e va qua questo in e rimbalta 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 qua non può andare no e rimbalta qui e va bene se invece lo sbattiamo di là va qua se invece lo sbatti qua andrebbe lì e sarebbe la giocata perchè quello ti va bene e arriva qui salvo che tu adesso non fai movimenti strani o io dopo ho fatto una sopra salvarla la vesine per la pelota però potresti anche farlo perchè magari da qui sotto la ricompensa e sei salvo questa quale vuoi prima vuoi muoverla cosa mi consigliate devi girare questa come ha detto lui che se in caso si muove va qua e poi la questa città facciamo devono combaciare le tette il corridoio non combaccia sotto se non combaccia un corridoio fa questo movimento un 5 1 2 3 scopi cosa c'è sotto no così dai già eravamo stati diventati ma guarda sia quello grigio quello grigio è forte la lascio qua intanto eh quanto è? 5 tu hai un 4 meno 1 fa 3 non hai potenziamenti qua ottima ah tu li hai perchè hai lo scudo non hai scudo o niente? ce l'ho qua però uso lo scudo e non lo dico ma ha preso lo scudo come vuoi ho preso ho preso ho preso un più di attacco poi il mostro qua ci avrebbe fatto guadagnare un punto sangue era perfetto invece questo vince vince ma lo ha parato quindi va bene tutto però la vergine torna qua torna qua torna qua torna qua e finito il movimento si ti hai toccato la coda prenda lo stesso no perché non ha battito il mostro ok allora diverti pesca fai intaccare ora oh io lo c'ho vede quello più grande no vuoi vedere cosa succede? è vero un autore però non mi ricordo il colore perché giustamente ha fatto le carte uguali quindi si muove quello più grosso in me 4 va qua non vede nessuno secca tocca a te ho un 33 un po' di movimento un po' di movimento uno due sei però sei che se vai sullo sky il colore poi da tutto qui eh si però fai molto piccolo voglio un potenziale mio perfetto un 4 uso un più due perfetto lo mettiamo in casa scusate mi curo ti curi anche bella perché io la cura avrei balzo ma non l'ho fatto no 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 non l'hai fatto questo è sconfitto questa perfetto ho una bottiglia di liquore che mi cura due ferite guarda fa vedere ah si questa qui è un particolare altra carta perché è del creatore del gioco quindi sono due ferite che posso curare all'interno della stanza esatto alci a tutti quindi doverà ferite a tutti ferite dentro fino a un macchino di due va beh ecco guarda è stato fatto ma ci sono ancora tecca eh ti darai ti darai l'altro posto tu pescherai quello quello piccolo ti danno schiappone no perché io sono piccolo ancora ma quello oh ah 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 ci sono le rotte nella venterai quello piccolo si la venterai qua ci sia qua si non vede nessuno commentariamente no 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 ecco quindi si uno attaccato eh no è non l'aveva impaccato qua appunto no attaccato il tonet ha fatto no 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 tu ne qua eh ah il turno prima che attaccato si e quindi si muove si muove, lo facciamo andare giù sotto lungo dai allunghiamo giù, no perché si rimuove quello piccolo in A maledetto, va qua, vuoi proprio muovere, vai in A, tu va lì, così viene quel movimento in inverno cazzo, facciamo un movimento tuo, ma vuoi farlo, se prima ti è stato detto di no, ecco se no, non è che a lui inventa le regole, esatto, facciamo le cose loro, si o no, io, se vuoi farlo allungarlo, io direi, a certo punto lo allunghiamo, io mi prendo l'attacco, facciamo vedere, va bene, allungato il giro, si muove in A, là e qua, becca tutto il passaggio, e intorno a qui chi becca me, perché lui è cattivo, e lui mi fa un attacco di più uno, quindi due ferite, tu c'hai lo scudo, io non ho lo scudo, perché adesso abbiamo solo tre carte, e sei fortunato che ho solo uno scudo, porca troia, lo uso volentieri, però una ferita me la piglio, per cui io? no, ti fai paura, perfetto, muovo il cobra, perché avevo preso la ferita col movimento del cobra, e mi tengo anche la ferita, bene, se muovo il cobra di uno, si muove questo in A, esatto, esatto, sappiate che quando si evoca questo bastardo qua, il giro che scompaio, non è che lui li uccide, ma la cosa più importante è che, non avendo ancora portato fuori, nessuna delle venti, entrano tutte e tra in gli occhi, se manca ancora due passi, come succo, due passi, quindi abbiamo tempo, ma se c'è, due del cup, non è una cupa, si, una cupa è tempo, ah, quindi non riesco anche a fare un aumento, che non è, no, quindi l'unica cosa che mi fa pensare è che abbiamo, ma c'è ancora dentro il cover, io direi che adesso questi, non siamo dentro di nuovo, l'unica cosa è che dobbiamo stare all'area a salvare la veo di Nettone, come lì deve fare il combattimento, eh, ma come fai a fare il combattimento, deve andare via, si, deve andare via da lì, vuoi tornare indietro, perché se non equivale come la roba di Nettone, no, se non vuoi essere qua, però no, non so come funziona appunto, perché non abbiamo capito, se tu combatti, se sei qua su, quando ti sposti il caso di terra, perché mi è venuto un dubbio, che per me le vergini, a prescindere che tu la perda, quelle te le porti fuori, capito, tu la liberi, certo, ragazzi, veramente tante regole che prima non capirete, farete una fatica, ecco, la prima fatica che prende il pallone che possiede la virgine, la virgine torna in Gattavuglia, la partica è una fatica, la partica è una fatica, la partica è la variante esplena, per me non fa, ecco, se il pallone che vince, prende il gestione versione, lo pone vicino alla propria carta, dal turno successivo dovrà tentare di raggiungere una tessera a scale, solo quando la vrà raggiunta avrà letteralmente salvato la Vergine, guarda ecco loro poi fanno così gli pagli assieme guarda, 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 sto dicendo che solo se vinci il combattimento, la salga, però guardiamo che se Powerwall, il valore che portava in giro la Vergine muore subito una ferita o più ferita, perde immediatamente la Vergine che torna nella parte della d'origine e si torna in status preparata, ah quindi si trattura anche, perfetto, lo possiamo salvare sia l'innocente che è separata, appena diventa a succube ci sottiamo alla grande, ovviamente a salvare la Vergine rende la Cobra molto più debole, però se non le salvi invece la Cobra ti fa che cazzo amari, quindi secca, ecco facciamo, ricordiamo che dobbiamo prendere le carte Vergine, Patatoni, no, c'era salvi, io l'ho salvata, facciamo facendo quello di ricordarti e ci sono le carte, e avvi, ce l'ho avesso secca, dove è nata, dobbiamo darellare, c'è, c'è tanto da fare, parara, 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 parara. Parara, 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 parara se io uso branco ma lo faccio il tuo, hai visto? ti viene da me, posso curare, non so se posso curare solo me o te ok, cura quelli presenti, abbastanza ok perfetto i 1 la dima, aspetto cura i 2 però non voglio usare, non voglio usare, non voglio usare, non voglio usare il movimento, ok, 1 e mi muoverei così ah no, potrei andare a far combattere lo settore, no? però vuoi, perché lui qui sopra, se che il groppa si salta, non è un passaggio tra l'altro poi si dovrebbe espostare, però potrei articulare, per esempio, il terzo attacco da l'esclusione, non è vero ma sono lì dietro da qui, ci sono allora, 5 movimenti, 1, 2, 3, 4 lo batto lo batto lo batto lo batto lo batto ma scusa quella lina puoi usare certo ma c'è il cingolino di coppia no, la forgia non può usare ah, la forgia la forgia c'è la cura la vera che è quella che ho posso? ecco scusami, bravo, non so più non so più ti vuoi giuro quello piccolo una lettera? B B mamma mia perfetto ho calco tutto? 22 no, io 21 perfetto, io ho 6 di movimento faccio una giocata un po' perfetto tu lì faccio il pulsante se non faccio il combattimento l'abilitazione è usata ok l'abilitazione è usata prima del combattimento poi ricordi che potrei curarmi sì, all'estate ho visto che mi ti... dai la quanto ci... no, lo so che ho la però volevo spostarmi ma volevo andare la ma volevo andare a salvare quella ti curava tu se tu andavi di lì se tu andavi di lì? eh ma... no, perché entrava, entravo qui eh lo so cosa però? no questa ecco sì, tu non stavi lì? lo sento il tuo navigatore ti aveva già curato? non lo so mi hai detto che eri finito? infatti guardi ti vengo a curare? no, no, fai anche io ho già una ferita eh vabbè, c'ero due dai facciamo come ha detto il signor Marco uno due tre quattro cinque sei così giallo dritto dritto vabbè scuro mi ha scudo che tanto magari metti da fuori se no le ripetiamo sicuro passa un po' per tranquilli non will vediamo cosa ha lì come ce l'ha ma vergoglio sai da guarda vergoglio non ho per scatti due c'è un app c'è un app normale quello piccolo sconcherecta ah si vede tranquillo ragazzi ma adesso c'è la app è quello che non volevo andare lì però non ho non ho eh 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 E' meglio se ci ha fatto, se non volevo al cover. Hai studi? No, ma è sul punto sangue. No, non faccio il punto sangue. Ah, è un tipo di una ferita. Non c'è così il calico piccolo piccolo piccolo, non c'è solo quello. No, un po' da troppo, è quella di sicure. Cos'è sul cento? Più due, fanno vedere, hai una ferita. Allora la mia ferita, essendo che si sommano, fa tre, quindi torno al posto. Quindi io, con la mia azione, ricordiamo, D-Hall e D-2, dai calcosa, chi ti ha preso questa? Perché io ti ho fatto guadagnare la terza ferita. La prende quello che... Un proprio compagno. Non c'è? L'altiene il primo giocatore che giocando una carta se ne fa sì che uno strigò ai prodotti la terza ferita a un proprio compagno. Sì, sì. Grazie. Eh beh, noi siamo già due. Aspetta. L'altiene il primo giocatore che diceva un gettone frita, l'altiene il primo giocatore che viene sconfitto, che è collezionato ai terzo oggettore che viene sconfitto e termina per disabilizzare. Perfetto. Questa volta non mi ricordate. Non mi ricordate. Non mi ricordate. Ugo... la porzione mi culo. Solgo questo. Non fa come... Uno, due, tre, quattro, sconfitto qua che non dovrebbe vedermi in teoria. Esatto. Bravo. Sì, adesso pesco con la tua grande noncia. Ricordatevi che Alessio Toninale è una grande dote. Il buco di culo infinito. Infatti non è così doppio. Bravi un capo. In che lettera sono tutta una lettera A? Perfetto. Faccio un testo lì. Qua. Guarda quello grosso prima, no? Con lo piccolo. Vale. C'è due. Non è che fa male. Questo va in A? Sì. Va dove c'è l'angolo lì. Si vede? La prepara. Ecco. Perfetto. Però non è successo niente. È stato attaccato Marco. Non si muove il covra. Sì, ma il computer si va a far morire. Perché sono già due. Sì. Ah! Ah! Stia facendo con il famoso video che non entrano di nuovo neanche... Non rientra l'espansione. Non rientra in gioco. Esatto. Non rientra in gioco. Perché la cosa bella di sto gioco è che non puoi... Non puoi neanche tirare via i punti di sangue dall'altare sotto. Esatto. Adesso fanno una... Un DLC. Però teoricamente adesso per perderlo... Ah! Ma adesso ce la facciamo. Gli hanno solo due carte. Io ce l'ho quattro. Io sono qua. Mi ha fatto andare lì il barabeo. Ma che sono io? Qui. Io ti direi. Ti direi! Come sempre ti direi! Ti direi! Ti ho gioco alto! Zora! 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 combattuto per lui andare a fare quello grigio e ti lascio un bai io alta altri guardate paratuno 34 aprile poco vado con il tono 5 di movimento, quindi 1, 2, 3, però Marco sta giocando una partita un po' strana, dovresti salvare la regina, se ne ho 2 e poi io salvo 2, dovevi salvarle a nessuno, perché se rientra, facciamo grancho dove c'è andato, no perché quella se le gira, no perché se ne ho io, loro si trasformano, devo portarle fuori, ma se va qua, non sono lì dentro, loro non si trasformano, quindi io non prendo un punto salita, quelle no? Eh no, perché arriva a farci una maracchellata di moro, una vergine in una prigione, qualunque è stato si trova immediatamente trasformata in sciù, ok, attenzione, potrebbe capitare che è l'ultima vergine in gioco, c'è quella di empower, molto apportando il strato e quindi trovi 3, in quel caso purtroppo la vergine si trasforma in 5 e dà via alla resurrezione del cobra, passo 4, resurrezione del cobra, quindi resurrezione del cobra, è questo, passo 4, quindi standa quanto detto, nel passo 3, ma io non lo faccio l'esterno, non c'è niente, senta no, fai così, però mi sembrava strano, io sono qua all'esterno, mi chiamavo, vado, vado, dove c'è niente, qua, ok, tappa, va qua, allora faccio l'ottore, 5 parti, 1, 2, 3, 4, 5, metti lì, e giocatore, infasi, lo torinello, no, no, aspetta un attimo, c'è alcuna, no, cura, non mi chiede dal cazzo, no, perfetto, muovi la B, pescando, muovi la B, pescando, pescando, per forza, tutti e due, tutti e due, quindi, lettera B, si, aspetta un attimo, si, questo va, qua, dove c'è la, con l'altro, simulatore, non va in G, però c'è di tipo, deve andare lì sul doppio, però, non va qua, non vedo nessuno, ma questo in G, tan, 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 andrà qua, si ha tirata, olè, quindi finiamo che l'ha già perso, perché c'ha il critical per il potentiamento di kill with the cross, ah perché ha due ferite, cazzo la prima, per le un cu, no, la prima è una ferita normale, normale, ok, ma non è quella del foot sesta, non hai scudi, anche quelle carte born, oh, d'altra cosa, eh, 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 quindi mi becco una gran ferita meno uno d'attacco faccio anche questo il carizzo perché è quello grosso giusto? terza grande partita perché praticamente questo non è una ferita ma è un sangue già garantito perché in effetti se ne avrebbe più il sito della ferita esatto, è un criticalista, è un colpo critico perché essendo che ho dovuto prendere il passione due volte perché io, gran giocatore di esperto internet ovviamente se si teletrasporta se si teletrasporta dovrebbe entrare qui ma non può entrare una coltetta fuori lui gli ho detto che sia sicuro di stare qui ha voluto stare qui potevi fare un altro giro mi dà lui no perché ne attaccava quello? no perché tu ne sei ne attaccava quello comunque la ferita non potevi andare da un'altra parte non potevamo non potevamo non potevamo salvarci non potevamo schiassi chiassone questo questo karma non potevamo non potevamo non potevamo non potevamo comunque assolutamente entro il contratto facciamo vedere come si muove no ripartire da zero no ripartire da zero di nuovo un'ora e mezza no lascialo li quindi noi adesso facciamo finta che siamo a un punto sangue pari parliamo con un punto sangue e vi facciamo vedere come sarebbe andato avanti il gioco rimoriamo di nuovo siamo proprio dalle merde ci bannate da instagram soprattutto il primo marco mi piace andare con i piaccio bella ti ricordi questa storia quindi se volete sapere di questa storia faremo un podcast con le perle di 26 anni le belle disperfizio comunque qui partita qua è finita vi facciamo vedere con un punto sangue facciamo vedere i movimenti dopo la cova quando è già in gioco così più comodo qua potremmo salvarle vi potremmo far vedere anche il caso facciamo così vediamo se riusciamo a salvarle i gatti che li entra al cova io cerco a fare così ti devi andare via essendo che vogliono far vedere ma era bello far vedere se entravano le vergini una o due o tre perché ci sono tre tipi di carte lasciate lì assolutamente ti senti uguali però ti prometti che invece una la caldiamo due due ecco la tre era lì vabbè torniamo a puntata perché ne ha perso ricordiamoci questo questa che aveva giocato riteniamo le carte eh riteniamo le carte di cui siamo rimasti adesso partita finita ricominciamo toccherebbe me perché il buon Marco come sempre ha voluto portarci alla ruina che è negra realmente comunque io sono qui faccio un movimento in tre uno due tre attacco voglio cosa pesca? pesca un cinque pari non mi serve neanche usare la forga la forga la forga potessi della partita di fuori la carta lì la pestiamo allo stesso ma ormai ha fatto l'azione vabbè ho fatto la carta ricompensa sono protetto sempre dalla carità di valeno oppure la uso per un attacco a tre in un libro in faccia a qualcuno esatto il bullizzatore si difende dal bullo con un libro però ha ragione week ora lettera ragazzuoli lettera un serpentello che si attaccava lettera b va bene un bel serpentone è un cobra che però è una serpente come dice il nostro mastro lettera b in due in un dove dice qualcuno? finito un movimento no ecco io ho attaccato perciò la mente la virgine dov'è? è rimessa lì perchè è giustamente è stato chiesto il pestetone è andata scendiamo ecco l'ultima perciò ok tocca a me l'incognere cosa sarebbe la forza però te lo sai aspetta proprio di no non hai il card di compensa ma chi ne ha tre perchè se io ne ho tre una due io ne ho quattro e quattro perfetto solo che ne ha di meno è il tono questa è tua questa è tua non hai il card di compensa no no non hai il card di compensa ah ok faccio uno due combatto vediamo cosa risce due vinco vince non vince niente perchè i vostri sono talmente deboli che non hanno un cazzo alessio c'è preso una carta bonus perchè di queste io ne ho già tre qui al primo arriva tre da la carta potenziamento e chi ne ha di meno parità sceglie quello che ha l'iniziativa più vaste no torsia ma così quello che era è un modo di vita e beh vieni a pescare un po' il tono quello è stato quello grosso perfetto quello grosso in carretta la tono e ma se di là viene qua te la hai ricercato l'ultimo uno si viene qua vediamo qualcuno no mi ha attaccato a me quindi a posto come se non mi aveva quella carta vi fa ricordare questa 22 questa 41 ho giocato in 4 4 ho giocato in 2 2 dopo di me sei partito 22 eh 23 ok 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 ho deciso perché ho mai vinto tu non hanno mai vinto non hanno più ho provato al combattere ma ho perso ok 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 ancora bello 2 2 2 3 6 8 alta Dove sei Ale? Sì Mi argomento avrei uno scudo Ma aspetta, no, non dici Ma dove sei lì? Non vuoi salvare la Vergine 1,2,3,4 devi fare al minuto 5 Dopo sotto calcola che era lì Perché l'abbiamo visto prima Ok, va bene Ok C'è un 8 42 49 Quanto io? Sono qua e faccio 1,2 Ultimità Fortimità Tra la leo, tra la la No 3 Lo tengo, lo combatto Prendo una ricompensita Che è un scudo di protezione Non fa mai male No, no, ci sono Ci sono Capiamo, come sempre Sì, non perché sono la tua per fare la tua Esatto Adesso, lettera B Sicuramente uscirà la cobra No, quello grande, lettera B Viene qua Non vedo nessuno Non ho salvato, Trigio E il mio l'ho fatto Troppo a te Troppo a me 42 Due carte scattate non ne ho Perché sono un genio Guarda, non posso usarla Ho tre parti Uno Uno Due Quattro Cinque Su Dice for give ed è andata adesso muovi il cobra perchè c'è un pezzo, no c'è sono tre, no c'è sono tre di tessarine, è un pezzo, cobra, un po' più, proprio cobra si, si muove il cobra, giustamente cosa fa il cobra, muove davanti quindi tutte le versione diventano però non sono ancora in gioco, sono ancora nella prigione, mettiamo, abbiamo tolto i numeri senza guardare, vabbè ma è da tre, due e uno, ci siamo i numerini qua sotto le gambe, scoperto dopo due partite perché gli stavetti non guardiamo, adesso che è entrata l'espansione ci sarà da ridere ragazzi, non è ancora entrata perché lui non arriva qui, vabbè starò, adesso mi mischiare dentro tutte le cose, mi chiamo, mi mischiare, mi mischiare, sto cattone, va avanti maestro, mi mischiare, mi mischiare, mi mischiare, quanti mai stai a dire questo ragazzo, gli starà, salutare il tuo amico, no, no, mi mischiare, mi mischiare, mi mischiare, mi mischiare, tre e quattro, lui così Marco per i modi da gioco non la può salvare, no, perché è trasformata, quindi è inutilizzante che ci andasse qui, può combatterla, non puoi entrare qui, e andare qui, però, occhio perché, o puoi andare qua, guarda, eravamo visto che pareccia proprio essa, però se tu vieni qua, puoi curare Marco, va bene, però, perché siete qua, sono, sono una branco, no, però c'è arrivava la colpa, no, qua, non c'è, 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 se noi evitiamo che faccia ci danni, dai, io, in te, e prego, non c'è, non c'è, non c'è, doppio, perfetto, lettera, F, F, quindi andiamo in F, questo viene qua, e attacca secca, va bene, va bene, va bene, va bene, attacca, perché, se no, muoveva, no, no, mettilo qua, poi, se no, si muoveva il, no, attacca questo, si, faccio, farlo, lo posso farlo, lo posso farlo, devo avere due scudi? devo avere due scudi? o ce l'ho? e fare la farita normale dalla sinistra verso destra come leggere sta benissimo anche così caro Marco ho solo questo perfetto, è un punto sangue da work su 2 quindi siamo già 2-2 non c'è riuscito neanche a far vedere come attaccare i gravati a frigori perchè servirebbero e' abbastanza danni da fagli abbastanza danni da fagli a distanza dalla vicina dovevo vedere le carte se va lo hai fatto? si si mostro e' grande io ho l'ultima ma è brutta vuoi vederla mia? io ho 1 io ho 1 facciamo facciamo una giocattacoli 39 47 io ho 8 per fare valso però per valzare valso non valzare l'ordine valso 1 guarda valso qua valso valso sulle scarpe 2 valso 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 2 non ecco la parte ecco ma forza lettera a b ragazzi guardiamo sempre al cover ma mentre la si muovono tutte e due ma è giusto lettera a b ah non vedo nessuno quello mamma mia che e niente e io ho fatto perfetto tocca a me uso abilita' aperto nel portale quindi tutte le pedine tutti i tombini vengono rimotti per la tua che è sempre a posto ragazzi a posto nel cielo ma non a posto stile che approssimamente che siamo in settimana noi possiamo fare una fatica ma horrify lo possiamo portare non sappiamo se monster america monster o quello della universa quei normali quei normali classico però bisogna portare anche dracula lo portiamo quando siamo in 4 sarebbe da portare ritorno al futuro che è la zona il gioco preferito si però non giusto se vogliamo farvelo vedere avanti con i mangoni magari al gioco è un indico molto ingratente che marco ci spiegherà anche i testi delle canzoni di mangoni quale fan oh fan è il numero 1 di mangoni fatti fan ahahahahah gente ti tocca ahahah attenzione che possiamo fare l'impresa di non far entrare di nuovo cosa perchè c'è parte la criticality non è scuri perchè sei ovviamente è un cravattario nel giro a rubare le robe e come sempre comunque ho aperto i portali non mi culo perchè non serve o c'è ferita circa no si muove di 5 ma noi non abbiamo mai preso le ferite così tante che le stiamo curate si muove di 5 doveva coprire? 1 2 3 4 4 4 parata parata e prendo un punto sangue possiamo attaccare la stradone si attacchiamo attacchiamo se dimenticati di dirvi una cosa adesso che abbiamo entrato un sangue e ci attaccano qualora gli si vuole possiamo contrattaccare si ma andiamo no io forse potrei è un po' non ho capito o attaccare ma che non ho scusa vede? ve lo percare se lo vedrò se lo vedrò se lo la tarota comunque per farvi capire ora è 27 di gioco ci sarò morti a un'ora esa esatto su uno ve lo picco la vetta ah non vediamo se ne sceglie si tocca a me allora attaccato è attaccato no è attaccato no no faccio 1,2,3 combatto Monaco si rifaccio il tuo escarcio guarda è grigio penso che non ce la faccio bravissimo un grande giocata e quindi si rifacca tutte le carte tranquillo tu chi li butto dentro? no lasciali fuori io sempre pesco è morto è stati via ma oh perdono vedete che è un ladro se si muoia che è un ladro lui dai luoghi su tre fatti dove ci sei morto non è vero e chi è? stacca la scala e andrebbe qui? no no si torna qui comunque se spaccano le scale ovviamente le regine non si potrebbero neanche più salvare perchè siamo anche stronti che ritruggiamo anche la fortezza non invitateci mai a vedere la fortezza per contare l'artista circense si arrampica e ruva non è vero che ruva Marco ladrone e Toninelli guardone guardone vedete che ruva ruva mischia fa anni io ho fatto uno che non hanno attaccato se non hanno attaccato cosa succede? si muove la cosa quattro round quattro round? tornano in mezzo si sblocca la scala si sblocca si attacca si portano le due scale si all'entrata si perchè così possiamo accedere anche a noi è un malus ma anche un bonus per poter accedere eventualmente capito ok va bene e la verde mi vanno qua le vuole succubi cercamente ci sono le carte c naturalmente tutte e tre ci sono... ci davvero la vostra ricerca? una domanda come questa fatta andare? ho ripetato tutto la vanno di carta io che ho fatto tutte le carte le ripeto adesso entro in gioco queste due lui ha potenziato al massimo e la vermina e ripetco anche i miei bonus ed è succubi perfetto ed è qua loro sono deboli si però fanno sette di danno lui fa nove più due sei però sono tre succubi per la C quindi qua scusate se è girata quella anche qui sicuro? perfetto guardate perchè il cobra come fa tutto il ragazzo entra in top e una volta la girata è questa? questa? ma anche questa ma anche questa ma anche questa ma anche questa e c'è su un powerwall oh si vuole su un powerwall? si è su un powerwall si è su un powerwall si è su un punto di sangue terza di nuovo let's go buona terza ragazzi facciamo vedere se ne è meglio vedi da questo momento la stanza sarà percorribile dai powerwall se metti la scala quella ok bravo faccio qui perchè per me sono scale come queste ok capito si si certo allora le piattaforme mamma mia le piattaforme sono le bisogni paranormali 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 ok se apre nuove stanze le abbiamo e nonostante senza piattaforma funzionano esattamente come le stanze della portetta ma non possono ruotare inoltre se dovessero colorare non ci sarà balzo che salvi powerwall ah perfetto se in quella stanza ci sono dei powerwall fa un momento del crollo il branco perde immediatamente tutto sale deve aver perso capovolgere la stanza che non sarà più accessibile e mettere gli strigoie e le succubi al cobra key continueranno ad usarla come di consueto con visibilità completa oltretutto qua beccano tutto perchè in tutte le direzioni ma allo stesso modo saranno eventualmente a tiro di attacco a distanza dei powerwall quindi se mi ricordavo facciamo che adesso è entrato il cobra facciamo il movimento a fine turno a fine turno il movimento del cobra vabbè adesso è successo che noi siamo morti e teniamo i tre punti sangue nostri e toniamone ancora uno perchè secondo me è giusto far vedere nell'eventualità che lì entra il cobra si girano le stanze c'eravamo sopra il powerwall perde un punto sangue qualora perde il punto sangue il powerwall dove andrebbe? in un'altra stanza? in un'altra stanza l'ho appena letto perfetto lui disattento anche se a leggere cosa si fa no no ha capito che perde il punto sangue quindi lo mettiamo nella stanza in a dove era? lo mettiamo in parte lo mettiamo qua ok ci toccava ci toccava a scegliere la carta c'è una ma chi è questo? è questo è questo è questo è questo mi dice qua è morto è morto è quanto è morto è morto c'è la carta che guadagna è quella per le tre cose io questa carta non l'ho ancora vista oh ma no la puoi usare tenerla così o usarla senta così adesso abbiamo queste due ma questa cosa non serve di tu la parata lui ma come sta mettiamo qua non ti agitare cosa che scattava tu il paletto è tuo niente ragazzi te lo dico già 18 perchè non mi accattaccherò se l'avevo detto in tal caso potremmo attaccare solo il cuore ma anche da distanza e ora la distanza non ti resti però e gli tagli almeno 7 per tirare al giro non so è quello che stavo calcolando facciamo vedere gli attacchi poi finiamo la partita no va bene facciamo vedere almeno due movimenti vediamo vediamo il template certo vediamo cosa vuol dire 14 18 16 16 6 43 ho creato con io faccio branco io sono il mio la partita ricaduto nel lavoro due una Faccio Franco, 1, 2, combatto, ma noi guarda che potranno andare all'attaccare il covrachiglio. Aspetta, aspetta a fare i movimenti. Franco, Franco vuole che ti sposti dove c'è un altro power. Sì. Poi vieni qua da me, così troppo sposti e vai a attaccare il covrachiglio. Il covrachiglio è quasi nuovo, no? Però se il covrachiglio non lo può attaccare. Però se mai l'attacco io che ce l'ho io, l'attacco anche. Non c'è più potenza. No, ce l'ho io, ce l'ho io. Fa una roba, fa il movimento che hai fatto, vai qua. Pescare una. L'ho già pescato. Sì, il ponte è miracoloso. Eh, il ponte è miracoloso. Poi la vedo dopo. Prima fare perso e facciamo vincere. Aspetta, facciamolo vincere perché sennò il gameplay... Ah, è giusto così. La ricompensa. Aspetta, c'era anche un'altra cosa. In realtà, perfetto. Muoviti. Esca. Ah, no, no, no. Si guarda solamente la carta. Si guarda solamente la carta. Quindi questo va in B perché si muove giù la covrachig. va verso il primo testio. Un testio. Va qua. Lo vedete su. No, vedete? No, vedete. Si muove la numero uno. Si. Qua. La numero due. Va in B. Qua dove c'è il ragno. Il ragno singolo. Si. Va qua, va qua. Allora. Un ciotto. Sei passi. Dove sono io? Di attaccarlo. Niente. Zero. Anche il quattro nel sotto. Un sotto. Form. Il due, quattro, sei. Quanto è lui? Povero. E sei. Quindi faccio qua. Uno. Due. Tre. Quattro. Se vuoi? Va. O va che numero tu va? Qua. Qua. Va tutta qua. La numero uno. Se questa va in A. Quindi va qua. La due. No, la due ce l'hai. No, la due ce l'hai. No, la due è questa. Ah si si. Ma in A. Lo più tecchio. Sì. In tecchio. No. E' occupato. Quindi va. Quando ti è più vicino. Nel tecchio più vicino va qua. E questa in A va qua. Vedrà nessuno? No. Perché non vedrà nessuno questi fanno un attacco. Ehhh. Ah chi ce ne è l'attacco, provati si? L'attacco si? Si, sicuro. Eh si è. Sicuro. è giustizionale? eh no ragazzi si stiamo già collattando vedi, eseguono tutte le regole in caso particolari del movimento degli strigoi quindi se per qualsiasi motivo di loro non può muovere vuol dire che non attacca e se il movimento li porta verso una testa e la scala e distruggono e così via per tutti gli altri casi quindi se non muovono attacca e si incazza il cobra comunque, tocca a me anche quando si incazza il cobra no, no, per ora fanno però non tenaci uno, due, tre posso attaccare quella come quella io attacco questa io attacco questa io attacco questa io attacco questa mi fa in sette allora quello è la numero? uno, tre il numero, tre 3 1 1 2 3 3 3 3 5 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 6 6 7 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 12 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 con incompensa di due si straccia la carta e lo scuso è ancora ferita ok, il numero della figlia perché? di carta un po' più alto 5 1 2 la figlia però giro anche la pedana perchè posso 4 3 scusami 3 lo attacco la distanza 5 brucio questa 4 9 e lui prende una ferita la mettiamo sopra, lo segniamo così si si deve fare le 4 io ho attaccato il non si domicando un cazzo vero? ti dico due schiazzi si ok l'altra per uno attacco la prossima volta quindi si ha sottifitto lo tre quella con lupo si è curato per primo tutti si è curato questa qua è dell'espansione nuova ah è stato di me il sole è quello più armato ma è quello che più sta a comunque si muove nella lettera S questo e e e attaccato e 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 attaccato e e no non mi vede c'è il muro c'è il muro attaccati tutti i corridoi e con visibilità completa in tutte le direzioni in tutte le direzioni in tutte le direzioni completa completa in tutte le direzioni anche se qua c'è stato il muro che ci solito ci sono non si può attaccare tecca guarda qua se tu sei qui guarda che era quel muro che c'era qua guarda 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 qua poi la taccatura allora preso la taccatura torna scudo aspetta sta buono puoi anche contattaccare come non ce l'hai la domanda nelle tue carte non hai le abilità non hai delle abilità quel tipo scudo o un più questo dai per usare guarda guarda non ce l'hai la fecchia sono gli scudi però allora puoi pararti una ferita normale ma dopo la non ce l'hai per chi è il bono e quindi ok ce l'hai una delle nuove te ne pari una normale ok scartala lo scudo tutta roba stappata comunque per me ne pari la testa ok questo lo usi perché ti pari da una ferita velenosa e ne pigli una velenosa tu hai preso questa carta perché sei stato il primo giocatore che sei stato ferito dalla cover team tu dovresti fare un matto totale però ma non c'hai potenti con quella carta di abilità tu tocca a me sento però può contattaccarla può contattaccare questo 4-2 non c'hai da vicino c'ha 4-3-7 più 2 9 ecco perché non ha contattacca contattacchi tu ho archivato contattacco ok ma tu qua lo spresa insomma questo te lo metto nei scarti e fin da un'altra ferita teoricamente mi trovo che ne manca una ma adesso 2 4 e 4 più perché è quello più forte ma adesso questa attacca a me tutto sì se no mi farebbe una ferita velenosa tu non c'è alcuni velenosi sì no una cura velenosa e questo una cura sì non culla autore io non c'è alcuni velenosi quindi una ferita velenosa perfetto bella bomba però me la cura dopo la condottati? ehm favi tanta? 4 ma questa la smina no perché mi la faccio a farmi tu no no tu tu 4 quanto la? 4-3-7 eh però mi serve della cura velenosa però che non torna con i velenosi allora va bene 4-3-7 pillata altra ricompensa ma cosa ci riesci a dare questa? questa è la 3-3-7 lui ce ne ha 3-5-100 io ho preso un altro martello più un più due d'attacco di nuovo quindi tu Marco hai fatto? sì sì questo qui il Torre ha fatto? sì no il Torre ha fatto? il Torre pure ha fatto? no io sono l'ultimo 56 ok il Torre ha fatto? lo hai fatto? tocca a me 56 stacchi da distanza arco brattino hai dubbi che potresti? no no si fa 3-6 ok 1-2-3 faccio anche 4-6 ti puoi fare la notte direttamente a lì? no 4 più di una persona 4 più 4 è 8 ma se non vuoi usare questo? vabbè c'è qua te 5 che è questo? vabbè 4-4-8 faccio 4 no prendo anche te vabbè vabbè comunque facciamo che usiamo l'abilità chiamo Marco lo faccio venire qui in una casella dove ci sono combattimenti prendo il suo 5 4 più 5 9 attacchiamo il Kovra King il Kovra King si piglia la terza ferita io ho avuto di buttarlo via non è ancora morto non è ancora morto ma è ancora ferita però Marco ti metto sinceramente qua dietro se non so voglio aggaparti ok secca no 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 sta giuro sta giuro non segui via secca ma fottuti no non sta fottuti tranquillo secca vai avanti vabbè comunque c'è il 3 basta questo la F va qua spacca la scala spacca la scala torna qua vedi a tutti vabbè vedi solamente una torna esatto vedi uno e due c'è il tuo interno ma sono tanti fai così attacca fai attaccare il tono vabbè c'è un botto di carta o te fai nel capo che vuoi ma sono due punti ferita benennosi io sono morto tra l'altro no no uno mi curo tra l'altro F F la ho buttato F F la ho buttato la ho buttato no questo mi piglia lui ha capito F scusa scusa ho parlato per me no tu dovevi avevo separato uno ok buonetola se no è ancora prima non lo poi c'è il scudo normale ma c'è ancora uno verde ma metti le dritte perché non hai al contrario non lo guarda scusa si è venuta sopra l'alto ma non ne ho altro ok hai lo scudo normale parato quindi scudo normale ok ok via e prende una peggiole nuda perfetto ci siamo salvati in corner tu non puoi contrattaccare basta ok ok non vedete nessuno finito il turno si morta ci siamo perdendo per tre volte questo non ho detto l'altra volta grazie appunto sei di te sei di te sei di te poteva durare molto più di più adesso che siamo tutti qua ragazzi uno di voi due lo attacchi è finito non è non hai bonus dici o no ah qua sei di te 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 hai la carta alta stai in mano se fa 5 almeno dovrebbe farla per sicurezza ormai è andata la polizia della polizia non si non volesse un 6 se vuoi provi il pilota va bene va bene va bene è un 23 54 e porta insetto troia cosa ti vuoi fare più alte torne c'è una media cerca di stare alto che ho fatto prima io alto alti no ma che cazzo vuoi dire che ho fatto prima lo muovo no 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 per fizzare ah esatto fagli partire a me quanto sei te 23 fai una più alta no fatti a lui no fai una più alta la più alta la più alta torne torne 30 quanto vuoi essere più alto della sua più di 23 quanto è ma è giusta cosa devi mettere su la vedo una molto più alta va bene torne 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 ok più di 23 cosa vuol dire più di 23 ecco cosa vuol dire la 24 in su eh è falso cosa vuol dire mi sa ho quasi senza carta ma l'ho usata una più bassa ah abbiamo finito la partita torne 23 faccio io solo qui ora non si è mosso lo attacco sono stronzo non potenzio piglio la ferita così abbiamo perso e Marco fa questa parte no allora scherzi a parte ho un più 6 senza dover usare queste carte bonus ho più 2 più 2 6 4 10 cellato è morto è morto è morto è morto e così è finita la partita lo scherzi a finale ci sta ora ci sono due perché non si è anche per la sede ragazzi è stata la partita tragica abbiamo perso 10 volte di fine 2 ore di partita abbiamo perso 4 volte fa per caso io non la metterei su YouTube però no la metterei perché facciamo vedere scriverò nei commenti cosa può succedere con l'entrata del cover, tanto questo non è che cambia, se fossimo sopravvissuti comunque entrava perché eravamo già lì, l'unica cosa è che quando entra in gioco si gira nella piattaforma e bisogna stare attenti che se si stia in sopra muori, guardiamo se abbiamo altre ci sono dei dubbi? no, lo faccio comprano, lo faccio 5 6, scala qua qua e qua ecco l'unica cosa tu mi stavi in confusione, la stai facendo? si l'abbiamo visto che un po' ancora ragazzi dovete stare tanto distanti comunque ragazzi essendo le 11 è un gioco che può andare per le lunghe ho preso molto la leggera però ecco se volete incimentare in questi giochi sappiate che è molto di strategia e non come nel giocatore stasera che era molto è normale come dice anche colui che l'ha creato, è normale che le prime partite si meritano tanti schiacchi quindi è normale che prendete schiacchi all'inizio ci vuole la costanza di giocare però speriamo che questo gameplay vi abbia un po' fatto capire le idee se ci sono le domande c'è la pagina instagram oppure commentate nel video sul video e Torinelli la prossima volta vi farà anche un passo di danza per aumentare il color Gertrude Dino che è un artista che è bravissimo nel prossimo gioco gameplay live è? Horrified? Horrified Volevo capirci che ne faremo due mani e poi sceglieremo se portare io direi di portare quello con i monti non ce l'abbiamo con musica americana perché Horrified per l'idracula ci sono dei venti di rapido 4 anni, aspettiamo magari di portarvi in ultimo, poi magari faremo altri, poi vediamo come vanno, seguiteci, lasciateci un like, tenete appunto nella sua raccolta fondi per la crescita dei capelli, basta non so cagate, ragazzi ciao a tutti, ciao Ducchi, ma che ciao a tutti, non li saluta mai, sono loro e li devo salutare, non ci devo donare secca, no no facciamo tutto a gratis perché siamo bravi, Toninelli vuoi salutare qualcuno? Buonasera, non ti si vede ti sei visto solo, è qui la, è la fatta, vai spedi,